Ciao a tutti, questo è il podcast di Game Surf dedicato alle uscite al cinema della settimana. La prima uscita che vi segnaliamo è Insieme per Forza, commedia che vede ancora una volta insieme Drew Barrymore e Adam Sandler. Lauren e Jim, lei divorziata e lui vedovo, si incontrano ad un appuntamento al buio. L'appuntamento è disastroso, ma i due sono costretti a trascorrere insieme una vacanza in Sudafrica. Ecco l'horror Le origini del male. Nel 1974 un gruppo di studenti di Oxford cerca di guarire una ragazza affetta da un male incurabile. Il gruppo scompare misteriosamente e per 40 anni non se ne hanno notizie, fino a quando viene alla luce il filmato amatoriale che racconta cosa scoprirono i ragazzi. Se avete amato Una notte da leoni, la commedia francese Babysitting fa per voi. Frank è un impiegato modello, talmente bravo che il suo capo decide di affidargli il proprio figlio, Rémy, per il weekend. Frank e Rémy scompaiono dopo la prima notte di affidamento e la polizia ritrova una macchina fotografica che racconta cosa sia successo in quelle ore. Rio 2096, una storia d'amore e furia, è invece un film d'animazione brasiliano, il cui protagonista è niente meno che un guerriero immortale. Il film si snoda lungo quattro diversi momenti della storia del Brasile, narrando l'amore fra il guerriero prescelto dagli dèi e la donna da lui amata. Dal nostro paese arriva invece un thriller dal titolo Surrounded. Da sola in una villa di campagna, una giovane insegnante scopre di essere circondata da strane presenze. Mentre il marito è assente per un viaggio di lavoro, la donna dovrà riuscire a sopravvivere all'assedio di queste presenze invisibili. Queste erano le uscite al cinema più interessanti della settimana. Vi diamo appuntamento a settimana prossima con un nuovo podcast, naturalmente su Gamesurf! Ciao!